Oggi pomeriggio in Piazza Angelo Scandaliato la prima caccia al tesoro fotografica LIFE. Venti le squadre partecipanti che dovranno trovare e fotografare gli obiettivi decifrando gli indizi forniti dall'organizzazione. L'iniziativa rientra nel progetto LIFE avviato lo scorso anno dal club fotografico L'altra Sciaccafoto e dagli amici e dai familiari di Fabrizio Piro. Il giovane fotoreporter Resacenze è prematuramente scomparso. Alle 17.30 il raduno dei partecipanti in Piazza Scandaliato, alle 18.30 il via alla gara, in serata la premiazione delle squadre vincitrici. Le migliori foto della caccia al tesoro saranno poi esposte e premiate nella mostra LIFE che si svolgerà nell'atrio superiore del Palazzo Municipale dal 5 al 7 agosto. Sempre questa sera alle ore 19 inaugurazione al Circolo di Cultura della mostra di pittura di Mirella Caruso, artista residente a Torino ma di origini saccenzi. Una mostra che mette a confronto i paesaggi innevati del Piemonte e le spiagge soleggiate della Sicilia. Le opere saranno esposte all'interno della rinnovata Sala Mostre del Circolo di Cultura. Alle 21.00 all'interno della Casa Museo Scaglione inaugurazione della mostra Sogno, Fiabba e realtà. Alle 21.30 al complesso monumentale della Badia Grande, nuovo appuntamento con la rassegna teatrale Franco Catalano. La compagnia Portavagno riproporrà la commedia La bugia dello zio Nicola, contesto e regia di Tonino Genuardi. Spazio anche alla musica in questo penultimo sabato di luglio. Presso l'atrio superiore del Palazzo Municipale, concerto jazz a cura dell'associazione Spazio Tempo. L'inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21.30. Alla stessa ora, spettacolo di danza in piazza Angelo Scandaliato a cura della De Mambo Kings. Nel quartiere di San Michele tornano invece le serate musicali con canti a San Michele in piazza Gerardo Noceto. Domani sera invece alle ore 21, secondo appuntamento della stagione concertistica 2016, all'interno del Teatro Popolare Samonà di Via Gatocle, tornerà ad esibirsi l'orchestra sinfonica siciliana, una delle realtà musicali più importanti della Sicilia che torna a sciacca per il secondo anno consecutivo. La prevendita dei biglietti viene effettuata presso l'ufficio turistico del Comune. Domani botteghino aperto al Teatro Samonà a partire dalle 17.30. Iniziative ed eventi che si svolgeranno nel centro storico chiuso alle auto e dove dallo scorso 18 luglio è scattata la terza fase di Isola Pedonale con ZTL tutti i giorni dalle 19 all'una di notte fino al 7 agosto.